Ciao carissimi, ci tenevo a spendere due parole sulla situazione che si sta sviluppando tra Armenia e Azerbaijan. Bisogna dire che siamo di fronte all'ennesima situazione abbastanza preoccupante, pericolosa, potenzialmente dannosa per tutti e anche pericolosa dal punto di vista geopolitico. Gli unici che possono aggiovare di questa situazione sono ovviamente gli anglosassoni, ovviamente sono gli occidentali, perché sono loro che soffiano sulla fiamma della guerra da parecchio tempo e anche in quella regione pare che stanno riuscendo a creare un'ennesima guerra. Cosa sta succedendo? Voi sapete che tra Azerbaijan e Armenia c'è una vecchia, se non dire antica, problematica, una tensione che dura da molto tempo. Questa tensione è legata a un territorio che si chiama Nagorno e Karabakh, un territorio dove abitavano tanti armeni, però ufficialmente questo territorio sarebbe parte di Azerbaijan. Si tratta sempre della questione di confini. Voi sapete che principalmente ci sono tre motivi per quale vengono scatenate le guerre. Il primo motivo è un motivo etnico-raziale, quindi l'odio tra diverse etnie. Io odio il mio vicino, mio vicino odia me, perché abbiamo le razze diverse, lingue diverse, abbiamo le religioni diverse, abbiamo culture diverse e quindi ci ammazziamo per questo. Secondo motivo importante è un motivo economico-politico. C'è una questione di economia, di risorse, di ricchezze. Io voglio quelle del mio vicino, il mio vicino vuole i miei, per questo motivo siamo in guerra. E terza questione è la questione territoriale. Io credo che il mio territorio si estende sul territorio del mio vicino e quindi il mio vicino mi deve dare ciò che mi spetta. Il mio vicino crede il contrario e quindi ci scontriamo per controllo del territorio. Ciò che sta avvenendo tra Armenia e Azerbaijan sembra strano ma unisce tutti questi tre aspetti in una situazione. Diciamo che tra due nazioni, tra Armeni e Azeri, non scorre buon sangue e non scorre da sempre. Per quale motivo? Azeri sono musulmani, Azeri hanno da sempre portato in quel settore del Caucaso il potere di grandi potenze islamiche, mentre gli armeni sono tra più antiche popolazioni cristiane. Gli armeni sono anche imprenditori, lo sono anche Azeri. Azeri hanno parecchi soldi, hanno controllo di vie importanti, vie commerciali. Gli armeni vorrebbero sfruttare alcune di queste vie, gli Azeri non li permettono, gli armeni creano le loro alternative, gli Azeri cercano di sabotare queste alternative. Questa storia dura da centinaia di anni. Inoltre ovviamente c'è anche una componente diciamo culturale. Gli armeni per molto tempo hanno ricoperto i ruoli di intelligenza e di lavoratori di amministrazione e di burocrazia nell'impero turco, mentre Azeri erano commercianti e bassa manovolanza. Quando l'impero ottomano, l'impero turco si esplode da dentro e si trasformò nella Turchia moderna, sono arrivati al potere i nazionalisti. E quindi questo nazionalismo turco ha indicato come i principali colpevoli dell'implosione della Turchia proprio la classe degli intellettuali e burocrati. Per questo motivo molti armeni sono stati indicati come nemici della Turchia, un po' come è successo con gli ebrei nella Germania etneriana. Se voi ricordate, il primo grande genocidio avvenuto nel Novecento era proprio il genocidio di armeni in Turchia, un genocidio sul quale ancora oggi ad esempio i turchi non si esprimono in maniera onesta. Bisogna dire che quando si parla con i turchi del genocidio di armeni, a me capita diverse volte perché io conosco diversi turchi, sapete che io abito in Medio Oriente, qua io parlo con persone provenienti da diverse parti dei paesi medio orientali, anche se Turchia non è proprio, non può essere chiamato un paese completamente medio orientale perché una piccola sua parte si trova in Europa e ha una mentalità già molto amalgamata con mentalità dei paesi sud-est europei. Comunque loro fanno parte del Medio Oriente, si incontrano qua, fanno gli affari e mi capita parlare con diversi di loro, bisogna dire che anche le persone molto aperte, con una mentalità molto aperta, persone politicamente molto fluidi, quando con loro si parla di genocidio degli armeni, si nota che è un tema molto problematico per loro, non hanno ancora elaborato all'interno della Turchia questa problematica. e quindi Azzeri, essendo un po' sotto protettorato dalla Turchia, oggi riportano, rielaborano questo sentimento anti-armeno, sentimento antico e questo sentimento si sposta in modo molto acuto dal settore di odio per una categoria sociale, cioè categoria di burocrati e di intellettuali, verso una categoria etnica, cioè Azzeri odiano gli armeni non tanto perché loro sono stati quei burocrati, quei intellettuali per la colpa dei quali in grande linea è fallito l'impero ottomano o se non fallito era indebolito mentre loro hanno guadagnato sulla distruzione di questo impero perché agli armeni viene incriminato il fatto che mentre l'impero si trovava in difficoltà anziché consolidarsi per salvare l'impero, loro hanno iniziato a distruggerlo, hanno iniziato a sfruttare ogni possibilità per rubare, per appropriarsi di qualche elemento, per divulgare la corruzione e così via. Quindi oggi il conflitto tra Azzeri e armeni è un conflitto che racchiude tutti questi tre particolari di cui ho parlato, particolare etnico, particolare economico-commerciale e anche particolare territoriale perché c'è anche un problema territoriale, c'è una zona dove storicamente vivono armeni ma si trova sul territorio di Azerbaijan, che è Nagorno e Karabakh. Di recente questo problema, avete visto, è stato risolto in maniera molto brusca, violenta da parte dell'Azerbaijan. Azerbaijan semplicemente ha conquistato militarmente la zona di Nagorno e Karabakh, ha arrestato tutta l'amministrazione, questa repubblica è ceduta, Armenia non ha potuto fare niente e non ha voluto fare niente, anzi armeni prontamente hanno subito dichiarato i russi colpevoli di questa cosa, mentre i russi si trovavano lì non per difendere gli interessi delle armeni a Nagorno e Karabakh, i russi si trovavano lì come una forza di pace che doveva dividere le due paesi in guerra e ovviamente la quantità dei russi, la quantità dei militari e anche gli accordi e il mandato dell'ONU che russi avevano non prevedeva assolutamente l'entrata della Russia in una guerra aperta per sostenere una delle due parti. Russi in questa situazione hanno agito così come avrebbe dovuto agire qualsiasi altro paese, ovvero loro hanno denunciato all'ONU tutti i movimenti militari dell'Azerbaijan, però non hanno preso parte di ostilità, anzi i russi sono stati provocati, sono stati colpiti diverse volte, sono morti diversi militari russi in quel settore, però russi non hanno agito perché hanno preferito in quel settore di mantenere un profilo neutrale. Cosa succede adesso? Adesso gli armeni, siccome loro si sono stati avvicinati da francesi e da britannici, in Armenia c'è adesso un presidente Pashinyan che è un personaggio che rappresenta l'oligarchia locale che se ne sbatte assolutamente dell'interesse del popolo, dell'interesse dell'Armenia, ma è un classico, si può dire che è una specie di Macron armeno. Lui è una persona molto corrottibile e quindi ha assunto adesso una posizione molto anti-russa, ha preferito di accusare di tutte le problematiche dell'Armenia i russi, perché secondo lui i russi dovevano, non lo so, combattere per gli interessi dell'Armenia, mentre gli armeni nei confronti degli interessi della Russia non hanno mai mostrato nessun tipo di interesse. In questo senso ad esempio Pashinyan ha fatto certi passi verso la Nato senza consultare assolutamente con Mosca le sue decisioni. Ovviamente Mosca in questo senso non è interessata di combattere per un paese che già si sta avvicinando alla Nato. Ultimamente la situazione diventa molto più pericolosa, per quale motivo? Perché la Nato che si sta consolidando in Armenia, hanno fatto un accordo, hanno fatto un patto di aiuto militare con la Nato, gli armeni stanno muovendo all'interno del loro paese le strutture militari insieme con le strutture della Nato e alla fine l'Armenia si sta comportando in modo molto provocatorio, soprattutto nei confronti di Azerbaijan. Azerbaijan che è più forte dell'Armenia, Azerbaijan ha una struttura militare molto più sviluppata, e questo si è visto anche dalle sue azioni a Nagorno e Karabakh, ma soprattutto Azerbaijan è aiutato da Turchia. Quindi noi stiamo parlando di una coalizione all'interno della Nato che può minacciare gli equilibri interni della Nato. Però in questo senso, suscitare una guerra sul territorio di un paese vicino alle frontiere con la Russia, per la Nato è molto importante, quindi loro giocano a casa. Loro cercano di scontrare adesso armeni con azzeri. Il senso qual è? Creare una guerra, una situazione di instabilità sulla frontiera con la Russia e coinvolgere, cercare di coinvolgere la Russia in queste situazioni, perché ovviamente la problematica sarà non solo la guerra tra Armenia e Azerbaijan, ma anche tutta la situazione circostante. A nessuno al Caucaso piacerà il fatto che Armenia e Azerbaijan iniziano una guerra su larga scala. Ci saranno profughi, ci sarà la criminalità, ci sarà di nuovo traffico di armi, sarà soprattutto deneggiato un importante percorso commerciale, che è ovviamente molto importante anche per la Russia. Gestione della sicurezza nel Mar Nero. La gestione di impianti petroliferi nel Mar Caspio, il gas che c'è nel Mar Caspio, il passaggio di tratte commerciali in quella regione, tutto sarà messo sotto una pressione da parte del sistema britannico e francese, e ovviamente i britannici in questo modo cercano di creare una loro macrozona, quello che a loro è sempre mancato e quello che a loro manca disperatamente oggi, perché loro sono rimasti senza le loro macrozone. Quindi in questa situazione drammatica, noi stiamo vedendo come l'Occidente spinge l'Armenia verso la guerra. Cosa è successo recentemente? Recentemente la parte armena ha colpito, così dal punto in bianco, senza nessun preavviso, senza nessuna logica, hanno colpito con i cannoni e hanno ucciso diversi militari azzeri sulla frontiera. Questa è una chiara provocazione. Certo, uno può dire che l'Armenia ha ragione perché azzeri hanno preso Nagorno e Karabakh. Io posso rispondere sì, certo, Nagorno e Karabakh è stato preso, però perché voi Armenia non avete combattuto all'epoca? Potevate schierare all'esercito, andare lì a combattere, difendere i vostri fratelli Nagorno e Karabakh. Però, mentre azzeri prendevano una guerra nei Karabakh, le armenie stavano zitti, buoni, Pashinyan hanno ingoiato tutto e poi pure ha stretto la mano a Aliyev, al presidente di Azerbaijan, durante il loro incontro recente in Russia. Quando c'era un incontro di diversi paesi caucasici, partecipavano anche loro e c'è stata questa stretta di mano, infatti molti hanno detto guardate, meno male che questi si salutano, vuol dire che la questione di Nagorno e Karabakh è chiusa. A quanto pare non è chiusa, a quanto pare Pashinyan veramente si sta trasformando in una pidina della Nato, perché se adesso iniziano queste provocazioni, vi ricordo che la Nato, proprio attraverso provocazioni del genere, sempre inizia le guerre. Se vi ricordate come è iniziata la guerra tra Ucraina e la Russia, 2019, 2020 e 2021, sono stati gli anni in cui ripetutamente gli ucraini facevano le provocazioni contro i russi sul territorio russo. Bombardare un villaggio, sparare ai civili, lanciare le bombe, fare delle provocazioni, entrare sul territorio, mettere la propria bandierina e farsi le foto. Queste operazioni bizzarre erano gestite ovviamente dalla Nato e poi finito tutto con l'ingresso della Russia ufficialmente sul territorio dell'Ucraina nel febbraio del 2022. Stessa cosa stanno cercando di provocare adesso in Armenia. La Nato vuole che Azerbaijan fa un'operazione militare sul territorio dell'Armenia. sta provocando Azerbaijan di fare un'escalation contro Armenia. Io credo che Pashinyan è d'accordo con questa linea, io credo che sono tutti d'accordo come ho spiegato. Stanno giocando in casa, stanno organizzando una guerra in casa perché da una parte c'è Francia, Inghilterra, dall'altra parte c'è la Turchia. Entrambi, tutti i paesi, tutti e tre fanno parte della Nato. e quindi stanno organizzando una guerra chiaramente fettizia dove morirà comunque la gente. Fettizia perché organizzata dall'unica unica organizzazione, unica potenza. Però si ammazzeranno due paesi pur di creare una situazione di instabilità ai confini con la Russia. questa in grande linea è la situazione degradante che si sta sviluppando in Armenia. Non cambia qualcosa e io credo non cambia niente. Io credo che Armenia rischia veramente di essere trascinata in guerra. Questo sarà un disastro per il popolo armeno. Questo sarà disastro per il Caucaso. E ovviamente la Russia sarà costretta di intervenire. Se la Russia sarà costretta di intervenire, i britannici riceveranno finalmente quello che loro hanno sperato da anni, ovvero mettere i russi contro i turchi. Perché attraverso l'opposizione dei russi in guerra tra Armenia e Azerbaijan i russi per forza si scontreranno con Azeri e scontrandosi con Azeri si scontreranno con i turchi perché Azeri sono rappresentanti dei turchi. E questo ovviamente è un grande sogno dei francesi e dei britannici. Vediamo come andrà a finire. Comunque carissimi se vi interessa questo argomento io vi invito di approfondire sul mio canale privato Telegram abbonatevi al mio canale il link per abbonamento troverete nella descrizione di questo video. Se volete sostenermi qua su YouTube vi invito di iscrivervi al mio canale commentare i miei video condividere i miei video con i vostri amici. Vi ricordo che in tutte le librerie d'Italia c'è il mio libro che si chiama La guerra e l'odio lo vedete qua alle mie spalle in questo libro vi ho raccontato le origini della guerra in Ucraina se vi interessa questo argomento leggetelo e fatemi sapere cosa ne pensate. Carissimi vi mando un forte braccio vi voglio bene vi voglio bene